Ciao, altra apertura, bustine Pixar, le ho già tolte dalla confezione perché appunto ve l'ho già fatto vedere, questa è una forma un po' lunga, non so cosa potrebbe essere, ok, apriamo a lato, potevo immaginarmelo, che bello, un altro Mike Vazowski, vabbè, parliamone, ok, allora, oh mio dio, vabbè questa qui è proprio quella fatta meno bene, ma vabbè, è Merida, ha uno sguardo un po' allucinato, però il resto dai è fatto bene, i capelli sono fatti bene, il vestito è fatto bene, anche il suo arco, la faretra, bella, bella, seconda bustina, lo sticker è, ancora, ma no, ma basta, quanti ne ho, c'è questo qui, che è della Monsters University, non ho idea di chi sia, se lo sapete ditemelo perché appunto non ho visto il film, per cui, eh, ok, terza bustina, ma basta, oh mio dio, vabbè, oh sì, che bello, Mike, ha fatto bene, con i libri, bello, molto bello, molto carino, per 1,90 euro, devo dire che, complimenti, quarta bustina, allora, ma, ok, vabbè, ho un doppione, ho già un doppione, vabbè, ebbè, allora, mettiamo qui, quinta bustina, oh, che bello, ma basta, che bello, cricchetto, oddio, è fatto benissimo, wow, troppo bello, bellissimo, ok, ecco, e alla prossima, ciao!